Buongiorno a tutti e benvenuti sul sito investire.biz Un saluto da Riccardo Zago Oggi voglio parlare di S&P 500 Uno spunto operativo abbastanza interessante E anche molto molto semplice da replicare Ho fatto un articolo dedicato Potete venire a leggerlo Però adesso io voglio andare a commentare A livello grafico A livello grafico Ecco qui, prendo subito l'indice Eccoci qui, vediamo quindi quali sono i livelli più interessanti Da seguire a mio avviso Allora nel breve termine A mio avviso siamo all'interno di un trend laterale Trend laterale e quindi ovviamente abbiamo un trading range Questo trading range, ve lo faccio notare meglio Eccolo qui Va da 2800 a 2600 Per parlare dei numeri tondi Adesso vediamo anche con più precisione Quali sono effettivamente i punti più importanti Allora, che dire Ieri ho dato un bel long da 2620 Stanno andando bene Devo dire però che continuano ad essere interessanti Tutte queste zone Questa zona di supporto Eccola qui Zona di supporto che va proprio da 2620 2620 a 2600 Scusatemi E la zona di resistenza va da 2800 a 2815 Ecco quindi che Sfruttare questi trend laterali è molto molto semplice Perché, facciamo un esempio Se il prezzo dovesse ritornare in area 2610 Più o meno comunque su questa zona che ho individuato Si potrebbe provare un long Con target 2800 E stop dove? Beh, lo stop potrebbe Anzi, deve essere assolutamente La chiusura dei prezzi Al di sotto La chiusura al di sotto Di 2581 Perché? Perché è il minimo assoluto di questo trading range 2581 è il minimo della candela Di ieri lunedì 10 di dicembre Quindi stop loss La chiusura al di sotto Di 2581 E target 2008 Nel caso Nel caso invece contrario Ecco qui Quindi con lo short da 2008 Lo stop sarebbe Come sempre La chiusura dei prezzi Di sopra Invece qui Del massimo Assoluto Qual è il massimo assoluto? Il massimo di mercoledì 17 ottobre 2822 Quindi questo sarebbe lo stop Per lo short Secondo me Questo tipo di operatività è molto semplice Proprio perché Abbiamo queste due zone Una di supporto e una di resistenza Il massimo assoluto è lo stop Per quanto riguarda l'operazione short Invece il minimo assoluto Che è quindi come detto 2581 E lo stop Per quanto riguarda L'operazione long Molto semplice Attenzione che questo è l'indice Più importante al mondo Nel breve termine Come possiamo vedere Quindi siamo in trend laterale Vedremo quanto durerà questo trend Secondo me potrebbe durare ancora un po' A 2800 ci può arrivare E poi da lì Mi sa che proverò lo short Vedremo se tornerà nuovamente A 2620 Dubito Però può accadere Se accadrà Entrerò nuovamente Con questo ho concluso Buona giornata Buon trading a tutti E venite a commentare sul sito Per dare la vostra opinione Buona giornata a tutti